E allora ragazzi è finito il campionato del Napoli, è finito il campionato della Samp, stiamo chiudendo Baracca e Burattini, stiamo chiudendo tutti i campionati possibili, immaginabili e allora stiamo chiudendo anche i campionati delle singole squadre, in questo caso del Napoli e della Sampdoria. Testa coda per l'ultima giornata di campionato, un Napoli già matematicamente campione da settimane, una Samp già matematicamente ultima e retrocessa da settimane, ora diciamo che io ero curioso di vedere un po' il finale di questo campionato, vedere come le due squadre avrebbero affrontato l'ultimo impegno per poi proiettarmi e gettarmi su quello che sarà il campionato dell'anno prossimo. Io assicuro ragazzi sono già fomentatissimo perché adesso ci aspetterà il calcio mercato, ci aspetteranno stravolgimenti, ci aspetterà di vedere Luciano Spalletti che adesso se ne vai, allora chi arriva? Chi prende il Napoli? Luiz Serriga, ma Luiz Serriga vuole la Premier League, allora il Napoli rimane in alto oppure ricomincia dal basso, allora chi si prende? E poi anche gli acquisti, ma Kim va via o rimane, Kvarashkelia e Osimane che oggi segna l'ennesimo gol, che tra l'altro oggi è anche il giorno della premiazione, oggi è anche il giorno in cui Victor Osimane prende la statuetta del capo cannoniere, non della Scarpadoro perché quest'anno non c'è storia, la Scarpadoro va chiaramente a Erling Braut, Holland, un giocatore che è stato eletto miglior calciatore della Premier League al primo anno in un top, no in un top 5 no perché ha giocato il Borussia Dortmund, però in primo anno in Premier League sarà molto difficile la Premier League essendo il primo anno in Premier League. se ha visto ragazzi, mamma mia se ha visto, un Napoli che viene premiato con lo scudetto, è una bella scena, meritata, assolutamente meritata, assolutamente giusta, dopo una stagione secondo me veramente fatta, dominata dai partenopei all'insegna di un bel calcio e gli va dato di merito, io lo dico sempre, io poi, insomma, sapete quando parlo di Mourinho dico sempre questa cosa, dico per me l'importante poi è vincere, se giochi bene e perdi come ha sempre fatto il Napoli negli ultimi anni, ti interessa relativamente poco, ma se giochi bene e vinci sei il migliore, se giochi bene e vinci sei il boss finale del gioco del calcio, e il Napoli ha dimostrato questo, che è quello che ha dimostrato anche il Manchester City e io sono molto curioso di vedere poi la finale di Champions League perché lì secondo me sarà veramente un crocevia importante in quello che sarà il futuro del calcio, anche per le prossime stagioni, ma torniamo a noi, un Napoli che gioca l'ultima partita e che tra l'altro trova proprio il gol su calcio di rigore, netto, penso che non si può, non voglio una persona che dica che il calcio di rigore non è netto, non la voglio, veramente non la voglio vedere ragazzi, quello è un rigore solare, Osiman si infila tra due, i giocatori cercano di chiuderlo, uno gli mette il piede sotto, lo accappotta, poi prende anche la palla, poi quando Osiman è già morto, e quella è rigore tutta la vita, dal discreto va Victor Osiman, non spiazza in realtà il portiere, anzi quasi intuisce il portiere blu cerchiato, ma alla fine è il gol del vantaggio del Napoli, è il gol dell'1-0, e dopo entra Gaetano, e Gaetano ragazzi, questo Gaetano che a me non mi ha mai fatto impazzire, vi dico la verità, cioè nel senso come profilo, come giocatore, mi è sempre sembrato un pochinino, un pochinino al di sotto delle aspettative, io credo tutto sommato che alla fine dei fatti, questo Gaetano anche oggi, insomma poi tra l'altro Palaccio si è fatto male, si era fatto male eccetera, però io credo che abbia dimostrato di starci, cioè anche oggi c'è avuto due occasioni solari, prima appunto del, cioè subito appena entrato in realtà, diciamo tra il sessantesimo e il settantesimo, c'è avuto due occasioni davvero nitide e solari, che l'hanno portato spesso vicino al gol, se non sbaglio entrambe, con una parata del portiere abbastanza importante, se non vado errato, il Napoli oggi fa giocare un po' tutti, e per me questa è una gran cosa, il Napoli che fa giocare un po' tutti, vi dico la verità, per me è una gran cosa, perché oggi giocano più o meno i titolari, cioè chi non è titolare è Kim, perché gioca Ostigard dal suo posto, però in porta gioca Meret, però vicino a Ostigard gioca Rachmani, però a destra gioca il capitano che è Di Lorenzi, a sinistra gioca Mario Rui, e per me è giusto, cioè tu oggi sai che cosa hai fatto? Oggi nonostante fosse l'ultima di Luciano Spalletti, tu hai dettato i ritmi per il futuro, cioè tu hai detto guardate ragazzi che il Napoli è già a posto e deve ripartire da chi? Deve ripartire dietro da Ostigard, anche se dovesse andar via Kim, ora chiaramente il Napoli ne prenderà un altro, però ha detto guardate che questo Ostigard dietro, questo vicino a Rachmani, non è poi così male, poi a centrocampo ha tenuto quelli, perché sono Lobotka, anche sai che poi si è fatto male, in realtà, e Zielinski, e questi erano i titolari a centrocampo, sono stati i titolari per tutto l'anno, e poi davanti che cosa ha detto? Ha detto guardate io ho Osimane, io ho Kvarascheli, ma a me a destra non mi piacciono né Politano né Lozano, perché ho metto Elmas, ed è la seconda volta, ed è la seconda volta che mette Elmas, questo significa comunque che lui ripone una fiducia impattante nei confronti di un calciatore come Elmas, che con Spalletti ha veramente giocato ovunque, ha giocato da mezzala, ha giocato da trequartista, ha giocato da ala, ha giocato dalla sinistra, da destra, ha giocato da falso nove, ha giocato veramente ovunque, perché lo merita, e io credo che tutto sommato ad Elmas, dalla parte opposta, quindi a destra, perché a sinistra c'è Kvara, vada data un'opportunità, a meno che Kvara non dica io parto, me ne vado, che non glielo auguro ai napoledani, però è possibile, ma non credo, non credo che potrebbe fare bene, ho un dolore all'orecchio, non credo potrebbe fare bene come ha fatto a Napoli da nessun'altra parte, nonostante sia veramente fortissimo, e allora in quel caso c'è già il sostituto pronto, che comunque è Elmas. E poi la cosa intelligente, a mio avviso, che fa Spalletti nel finale, è dare uno spazio a tutti, perché poi lì dai uno spazio a tutti, perché entra Gaetano Berzeliski, tra l'altro Gaetano, ricordiamo che se non vado errato, prima giocava molto più avanti, ha arretrato il suo raggio d'azione per cercare appunto di essere disponibile alle scelte di Luciano Spalletti, però che lo mettessero mezzala o che lo mettessero ala, lui comunque vede benissimo la porta, perché poi quella botta c'è là, quel tiro c'è là, eccetera. Entra Raspadori al posto di Elmas, così come Simeone al posto di Ossiman, Raspadori e Simeone, poi Simeone farà anche il 2-0, Raspadori e Simeone sono i due calciatori, a mio avviso, più decisivi del Napoli dalla panchina di quest'anno, veramente i dodicesimi uomini per eccezione. Poi Simeone ha giocato poco, ha giocato veramente poco, è entrato sempre all'81-82simo, 81-82simo, però ragazzi quando è entrato sempre, sempre Simeone ha fatto la differenza, Raspadori ha portato a Napoli 6 o 9 punti, non ricordo, ma forse 6, veramente pesantissimi con degli 1-0 che sono finiti poi così, che hanno veramente fatto la differenza. E poi Demme, e poi Demme ragazzi, e poi Demme, sono contento anche che abbia giocato Demme, perché Demme quest'anno non ha mai giocato con giustezza, con giustizia, nel senso che Demme per distacco è il centrocampista meno forte di questo Napoli, secondo me anche meno di un Ndombele che comunque non verrà riscattato, e credo che Demme a giugno partirà, quindi adesso tra un mese massimo partirà, siamo al 4 di giugno, credo partirà. Però diciamo anche un'altra cosa, io credo di base che un calciatore come Demme sia stato fondamentale per la costruzione di questo Napoli, per essere arrivati ad oggi un giocatore come Demme è stato veramente, veramente importante, veramente fondamentale, e per me si meritava quei 10 minuti più recupero che Spalletti gli ha regalato, quindi sono contento per lui, per prendersi anche lui questo scudetto, ne gli insegna tra l'altro nel nome di Diego, che è il suo nome, Diego Demme sia proprio così per Maradona, che a mio avviso merita assolutamente, e sono contento anche poi per il 2-0 di Simeone, perché comunque se lo merita per la grande stagione fatta, fa riflettere anche, riflettere in senso positivo il fatto che abbiano seguito proprio o Simeone il primo e Simeone il secondo, perché c'è anche il discorso di dire il tuo titolare di tutto l'anno e il tuo primo panchinaro di tutto l'anno, quindi secondo me fa capire anche come abbia lavorato bene il Napoli dirigenza sotto il punto di vista delle scelte. Detto questo due paroline, chiudiamo il discorso di Napoli scudettato, due paroline proprio due, sulla Samp Retrocess, ma proprio due, e cioè che la formazione della Samp con grande chiarezza tra Leris, Gabbiadini, Gabbiadini già già, Rincon, c'è tanta gente, quello più interessante forse è Zanoli, ma non è manco loro, è del Napoli, e tanta gente che andava cambiata. Ora, magari Amione no, magari Gunter no, magari Augello no, magari Gabbiadini no, però la Samp deve ripartire, ripartirà dalla Serie B, ma deve ripartire dai Paoletti, oggi ha fatto entrare Malavia, sì Malavia, Malagrida scusatemi, e quello, un altro giovane ha fatto entrare Ivanovic, ha fatto entrare, spero si dica Segovia, anche se, insomma, non so quanto, Telasco Segovia, il venezuelano, e ha fatto entrare tanti giovani, ma soprattutto in questa Samp non è presente Montevago, che adesso è in nazionale e è in semifinale del Mondiale Under 20, quindi recuperatevi anche i quei video, perché sto parlando anche di quello su Simone Sikwalf, e quello, ragazzi, è un giocatore che farà veramente la differenza, quest'anno l'abbiamo visto di tanto in tanto, giocatore buttato nella mischia con Stankovic, io credo che in Serie B, un giocatore come Montevago, se dovesse riuscire a portare la Samp su, farebbe veramente 30 gol, quindi fate attenzione a Montevago, fate attenzione a questo calciatore per la prossima Serie B, e tutti questi giovani che la Samp sta lanciando, vi ho parlato di Segovia, vi potrei parlare veramente di tutti, Ivanovic comunque è un classi 2004, è una punta serba, ma la grid è un altro molto molto interessante, perché si parla stavolta di un 2003, quindi un altro calciatore super interessante 2003, io credo che la Samp ci abbia degli ottimi giovani, e che vadano tutti, veramente tutti 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 osservati nel modo giusto, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, questa sera ovviamente, c'è tanta carne al fuoco, e quindi ne parleremo assolutamente insieme, tornando a parlarne qua, sul mio canale, o comunque su uno dei miei canali, grazie, buona scelta da lenne come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, ciao rega,